wow Beatrix ciao bimbi ciao bimbe io sono Beatrice la tigre felice e benvenuti in un nuovo video slime prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale attivare la campanellina per non perdervi nessun video incominciamo scusa Beatrice quindi io non conto proprio più niente ah si questa è Barbara è la proprietaria del canale e vi vuole tanto bene e vi manda anche un bacio ah e questa è la domenetti è uscita ora comunque ciao a tutti sono Barbara Domenici e questo sarebbe il mio canale anche se adesso avete detto sia Beatrice Beatrice ha cominciato un pochino ad essere eccessiva però la rimetteremo subito a posto ah adesso mi guardi pure male ora dobbiamo fare uno slime possiamo non discutere la seconda volta che appari sul mio canale va bene però devi essere più buona con me non ti ho detto niente ti ho solo detto che c'ero anch'io Beatrice il canale è mio è la tua seconda apparizione è già subito tutto tuo comunque incominciamo allora va bene ci siamo incominciamo dai torna qui vieni qui vieni vieni cara vieni pure qui al tuo posto va bene Beatrice di solito apri i video così col contenitore nuovo pulito e il cucchiaino e poi vi presento è già un po' cambiato tutto? va bene ho capito Barbara non sbaglierò allora dai cominciamo subito a bimbecare Beatrice ci supporterà psicologicamente anche se mi sa che questa fra un po' prenderà pieno potere del mio canale comunque lo shampoo che andiamo a provare oggi per vedere se con solo due ingredienti si addensa e babanilla aspetta Barbara a dirlo aspetta un attimo perché io vorrei andare a salutare una di loro ok salutiamo una di loro la saluto io o la saluti te? facciamo una per uno? quindi questa? parto io va bene dai Beatrice allora uno due tre baban Cecilia ciao Cecilia sei contenta che ti ho salutato io? ma posso salutarla anch'io? certo Barbara salutala ciao Cecilia mi ha dato il permesso di salutarti ti mando un grande bacio allora dai comincio subito questa è la marca del sapone che abbiamo comprato vado e ne metto subito un pochino qua dentro e intanto la trasparenza è fantastica fai vedere fai vedere e ci sta entrando dentro Beatrice non ti sporcare perché non ho proprio voglia di farti il bagno e comunque ti volevo dire che te non hai capelli ma hai peli hai sbagliato del tuo primo video eh sì hai ragione ma sai mi sono un po' umanizzata a stare con voi comunque adesso andiamo a metterci dentro il sale vero? Beatrice ascoltami vuoi continuare a fare video con me? sì che voglio allora devi imparare una cosa quella cosa che andiamo a mettere qui io la chiamo in un'altra maniera io lo so che la chiami in un'altra maniera ma facciamo prima chiamarla sale allora ok preferisco che tu non lo dica e io sono più felice va bene e allora sarò zitta brava vado a prendere quella cosa ma prima voglio salutare un'altra di voi e adesso la saluto io sì voglio sapere chi è posso dire uno due tre va bene e poi lo dici te va bene vai uno due tre va bene è Claudia Kawaii ciao Claudia hai visto che ti ho salutato? quindi adesso siamo a due saluti la prossima la saluterai te sì e non sto nella pelle di pelo fatta da pelle figlio da pollo feci una pala di pelle di pollo vabbè continuiamo tutta la filastrocca dai dai continuiamo perché qui eeeh prendono sempre lunghissimi i nostri video stanno bene in compagnia nostra poi so che hanno ricominciato la scuola eh sì tanti hanno ricominciato la scuola quindi dobbiamo anche fargli un grande in bocca al lupo a tutti e che sia un anno super fantastico vi facciamo un in bocca al lupo a tutti e buon anno scolastico e spero che passeremo tutto l'inverno insieme se non ti sloggio comportati bene perché se no ti faccio le tue badicette ti limo le unghiette e via 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 nooo ti prego vediamo vediamo che succederà aspetta vabbè fammi subito salutare un'altra di loro non abbiamo ancora messo il sale e vabbè ok dai salutala uno due tre ciao abiba ciao abiba io credo che tu ti chiami così però se non ti chiamavi così è un appunto per tutti se non vi chiamate con il nome del vostro account dovete andare a scriverci sotto ogni commento come vi chiamate perché se no noi siamo in difficoltà e non sappiamo come salutare di poi salutiamo più che altri vostri genitori e non voi bravissima ora sono d'accordo con te questo è l'aiuto che voglio io nei video devi aiutare perché io spesso mi scordo le cose e te sei stata molto brava a ricordare questa cosa alle bimbe mi raccomando scrivete sempre in tutti i commenti il vostro nome firmatevi così non sbagliamo mai prendi il sale quello non puoi chiamarlo più così ok non farmi arrabbiare oggi che è lunedì voglio stare tranquilla io ti levo la mano davanti alla bocca ma non dire più quella parola l'ha promesso si si va bene grazie vado a prendere la la polverina fatata magica stellata di glitter rosa polverine fatate di gnomi di bosco di fragoline con tutte le macchioline sempre molto belline rosina si però basta va bene non lo chiamiamo così ma non puoi farci sempre questa paraparapi pipipapi allora dirò solo polverina fatata Di unicorno Eh già meglio scrivetecelo nei commenti Se volete solo dei che dica Polverina patata di unicorno O tutta la filastroca che dura sempre un minuto Buona idea scrivetecelo nei commenti Così io farò quello che mi dite Perché io faccio le cose Che piacciono a voi Comunque vado Beh si direi anche che è l'ora Che tu vada Cicciocorno come sempre sta qui con noi Chissà come mi chiami a me quando non ci sono Eh no ancora non te l'avevo dato Non so il nome ma Magari fra un po' lo avrai anche te Allora lui non sta più in piedi Vado lo metto di Me lo metto di profilo Ti piace? Ma insomma Allora vado a prendere l'ostro Col cucchiaio lo faccio Beatrice Mi dovete sempre mettere poco Perché se no farò il contrario Invece di addensarsi lui si scioglierà Brava date retta a Beatrice perché ha detto una cosa vera Va bene Bea? Guarda un po' Che c'è anche il doblone Guardate il doblone dentro Ah ora ti sei fissata a dire doblone? Eh sì ogni tanto io vengo fuori con una novità Allora controlla se va bene Diciamo che si va bene Ok allora giro? Sì vai gira Aspetta però facciamo le persone serie Chiudiamo un po' E vediamo Devo rimettergli i piedini così Vediamo un po' che succede Aspetta Cosa? Il saluto? Ora? Prima di girare? Dai così ci vediamo il pensiero E poi chiudiamo il video Se no poi te lo dimentichi Dai salutiamo La prossima bambina che andiamo a salutare è Uno due tre Matilde sacchetti Ciao Matilde un grande bacio da me e da Beatrice Perché lei la vai a salutare così da biscino e le altre no? Sì ragione allora vi bacio tutti tutti per tutti quelli che sono iscritti a questo canale Un super mega bacio E direi già che ci siamo che uno due tre Andate tutti a mettere un like Brava Beatrice Un super like tutti Fatelo adesso perché se no Me la dimenticate Ottimo Ti stringo anche la mano Beatrice Quindi adesso posso andare a girare questo slime? Sì vai a girare questo slime Wow Beatrice Wow Ovviamente È bellissimo Io sono super super soddisfatta e gasata perché Strepitoso Fantastico Direi che se non sapessi che è sapone Vi direi che è uno slime Wow io vi do la conferma È veramente bellissimo Questo è il secondo shampoo che andiamo a provare E per ora questo vince Anche sopra il santi Barbara da qua ci sono io Due saponi su due hanno funzionato Eh sì effettivamente hai ragione Guardate questo com'è fantastico Quindi Anche il secondo shampoo ha funzionato Vi ricordo No lo dico io Lo dico io Barbara Di andarla a seguire su tutti i social E li lascia qua Pa 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 Li vedete tutti qua Grazie mille cara E li trovate anche nelle infobox Che le infobox sono Sono giù Se il video vi è piaciuto Posso dirlo io? Dillo te A me Lasciate un bel like Vi mandiamo un grande bacio E ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao Volevo farvi vedere da più vicino quanto era bello questo slime Va bene lo stanno petendo Ci vediamo domani ore 14 sul mio canale con un nuovo video Ciao Ciao